Benvenuti a un'altra puntata di MTI, questa volta in viaggio e sono in un posto molto particolare della cultura italiana la culla di Don Camillo sono qui quindi a Brescello mitica storia narrata da Guareschi sono i luoghi dove 70 anni fa circa fu realizzato una delle serie di film probabilmente migliori della storia del cinema italiano con Don Camillo e Peppone adesso vi faccio vedere anche Peppone davanti al municipio Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Dopo essere passato a Brescello che rilascia sempre tanti ricordi mi ho deciso di fermarmi a Sabbioneta Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Per sabbionete in modo che possiate risparmiare. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!